Sanne e Tommy sono 12 al via, Rea Bank, Red Mile of Lions, Relish, Rosaget, Reptile, Razelle, Griff in prima fila, Roberta Live, Ramona Capadete, Regina Fornis, Riecco la SM, Ransom of Lions e Royal Rose in seconda fila. Un po' arretrata, Riecco la SM numero 11. Parte piano Rea Bank numero 1. Stacco della macchina, 3 in linea per il comando con Rosaget all'interno di Reptile e Razelle, Griff. Insiste Razelle, Griff all'imbocco della prima curva, chiede strada. Il lancio ovviamente in 13 e 7 con Razelle, Griff che sfila su Rosaget all'argo Reptile, poi velocissima dalla seconda fila Royal Rose, quando i primi 400 se ne vanno in un ufficioso 29 e 6. Davanti alle tribune Razelle, Griff in vantaggio accompagnata da Reptile, poi in corda Rosaget risale all'argo Ramona Capadete. Anticipata però da Royal Rose, che viene via in pariglia dopo 600 metri in 44 e 6. Si formano più pariglie per corsi esterni anche il numero 10, Regina Fornis. Quattro coppie così sulla seconda curva. In vantaggio Razelle, Griff che mette assieme 800 metri in 1-1 e mezzo. Un parziale di tutta tranquillità impiegata in 16 e 8. Alla sua fianco si impegna Reptile, poi Royal Rosa che sopravanza a Rosaget quando il chilometro iniziale se ne va in 1-16 e mezzo, in leggera accelerazione la frazione in 15. Reptile attacca Razelle, Griff al mezzo giro terminale, mette qualcosa avanti all'avversale, poi Royal Rosa che prova ad avvicinarsi quando le cavalli affrontano la curva conclusiva. Il paletto di fronte in 14 e 6, 1-31 e 1-1 e 2, Razelle Griff che lungo ai paletti si difende da Reptile che attacca con coraggio. Poi Royal Rosa che ha in schiena Ramona Cappadete, Reptile che ritorna alla carica all'ingresso addirittura sul Razelle Griff. Poi Royal Rosa e Ramona Cappadete, Razelle in vantaggio sul Ramona centropista in mezzo a Reptile. E poi Royal Rosa, l'errore di Razelle Griff che allora consegna il successo probabile al numero 9 Ramona Cappadete con Antonio Semioli. Anche se bisogna vedere il replay, 29 e mezzo, gli ultimi 400 metri, 1-15 e 6. La media al chilometro, l'errore improvviso in zona proibita della battistrada, Razelle Griff lascia tre cavalli a lottare. Reptile che ha fatto numero, Royal Rosa al suo esterno e Ramona Cappadete in quarta corsia. L'errore improvviso di Razelle, Ramona Cappadete quella più fresca, scatta a centropista, mette tutti d'accordo. Reptile, ottima seconda al terzo Royal Rosa, pertanto arrivo ufficioso, 9-6-13 per quanto riguarda la quarta di Ponte Gagnano. La vittoria di Ramona Cappadete e Antonio Semioli, il raddoppio da training per Marco De Vivo, i colori della signora Rosa Tafuri.